Antonelli, si torna a parlare di emergenza sicurezza pescara, il problema del degrado, quali sono le proposte del centro-destra? Purtroppo c'è una grande confusione, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. Dobbiamo fare ordine, le questioni attinenti alla sicurezza dei cittadini riguardano le competenze delle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza. La lotta al degrado urbano è una competenza della Polizia Municipale. Ci pare che su questa cosa il Sindaco abbia generato una grande confusione anche all'interno delle altre istituzioni coinvolte. Allora, se le competenze sono queste, noi rivendichiamo, e della nostra proposta, l'esigenza di garantire la presenza della Polizia Municipale H24, soprattutto nei mesi estivi e nei fini settimana. Basta, per esempio, adeguare il piano occupazionale. L'attuale amministrazione pensa a settembre di assumere tre dirigenti, che non servono, non sono la priorità. Quei tre dirigenti, se li togliamo di mezzo, garantiscono copertura finanziaria per assumere altri dieci vigili urbani. Si possono assumere vigili stagionali, su cui l'amministrazione è in palese ritardo. Si possono recuperare circa dieci vigili urbani distaccati presso il Tribunale di Pescara. La competenza sull'amministrazione della giustizia è una competenza dello Stato, non la deve garantire il Comune. Lunedì proporremo di togliere i 200 mila euro che dovrebbero finanziare il mercatino etnico, cosiddetto mercatino etnico, per finanziare invece un sistema integrato di telecamere intelligenti, anche questo come obiettivo per migliorare le condizioni di sicurezza e una lotta effettiva al degrado urbano. Invitiamo il Sindaco a usare i provvedimenti che il decreto Miniti gli ha già conferito, e cioè la possibilità per esempio di usare il DASP urbano, un foglio di via temporaneo per coloro i quali si macchiano di attività che sono in contrasto con una convivenza civile. È inaccettabile che ci sia gente che urina davanti alle porte delle abitazioni private, bisogna intervenire con fermezza e rigidità. Questo è quello che noi chiediamo e che proponiamo all'amministrazione comunale. Grazie.